Merchandising Pandino Club Ci saranno dei prodotti per voi Magliettine, cappellini Ho già mandato tutti in ordine Però sono cose di qualità Verranno fatti 50 pezzi La novità che è tutto gratuito Verrà mandato a casa vostra Verrà un postino, verrà il corriere A portarvi il merchandising, ok? Come dovete fare? Mettete 10 like a questo video Ok? 10 like Io al video successivo Pubblicherò oggi o domani Perché ho finito le fisce O 8 C'è anche questo è l'ottavo video pubblicato Pubblicherò l'email Un'email mia personale Lì dovrete mandare il vostro numero di telefono Comunque se non volete mettere il numero I vostri dati Il nome, cognome E poi l'indirizzo di residenza Al quale invierò Vi darò delle skills Adesso a breve avrò tutta la documentazione Nel catalogo Penne, matite Tazze Tutto gratuito Vi manderò 2-3 pezzi Capito? Tutto firmato Pandino Club Tutto firmato Pandino Club Questa è una cosa che faccio Volentieri per voi Capito? Ok Quindi 10 like a questo video Poi partiamo Merchandising gratuito La prima volta al mondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti